Siamo all'Istituto Tecnico Primo Levi, ore 13 del 21 di giugno. Matteo, uno dei primissimi a uscire dopo aver completato il tema. Quale hai scelto? Ho scelto il tema sulle nuove energie. Perché e come hai cercato di sviluppare questo argomento? Perché era il tema che più mi ha ispirato e ho sviluppato questo argomento un po' con le mie conoscenze, un po' con i documenti che ci hanno dato a scuola perché essendo un saggio breve abbiamo appunto i documenti su cui basarci. Senti, sensazioni appena uscito da scuola? Di libertà sicuramente per aver finito il tema ma un po' in ansia per domani per la seconda prova. In bocca al lupo. Credo.